Il Chieti espugna 1-0 il terreno del Notaresco in un match da subito molto combattuto con le due squadre che però lottano per lo più a centrocampo e le occasioni quindi scarseggiano. Al dodicesimo è Barbetta a provarci per il Chieti dai 20 metri non centrando però la porta e al ventesimo lo stesso giocatore va giù in area con l'arbitro che lascia proseguire tra le proteste. La replica del Notaresco al ventiduesimo è affidata a una bordata dalla distanza di Bruno che sorvola però la traversa. Prima del riposo un'altra opportunità per parte al trentaseiesimo. Il Chieti si vede annullare per fuorigioco un gol di testa di salto e al quarantunesimo è il Notaresco ad avere l'occasionissima col gran tiro dai 20 metri di gelsi deviati in angolo e sugli sviluppi De Caro tutto solo nell'area piccola spedisce alto. La ripresa ha lo stesso leitmotiv del primo tempo, gara combattuta ma poche conclusioni. All'undicesimo lunga azione manovrata del Notaresco, traversone di gelsi e Babai in spaccata. Non ci arriva per un soffio. Al ventitresimo rispondono gli ospiti con un cross di Masavud e Palmisano che da due passi non c'entra la porta. I due replicano al ventinovesimo e il Chieti passa in vantaggio con Palmisano che raccoglie il lancio dal tre quarti infilandosi tra i difensori e insaccandolo 0 a 1. Il Notaresco si riversa in attacco ma riesce solo a trovare un debole colpo di testa di Pulsoni al trentaduesimo e nei minuti di recupero delle vibranti proteste per un presunto tocco di mano in aria. per il resto poi non succede più nulla e il Chieti torna alla vittoria.